salve care amiche ed amici oggi sabato 31 marzo di mattina vi faccio i miei migliori auguri per una buona vigilia di pasqua caricherò questo video verso sera quando troverò tempo e poi già da adesso vi auguro per domani primo aprile del 2018 di passare assieme ai vostri cari familiari parenti amici esseri cari delle buone feste pasquali quindi il vostro sant'enchan vi augura di avere delle buone felici pasque prospere di avere pace serenità tranquillità abbondanza e faccio questo corto video soltanto per mandarvi i miei saluti e i miei auguri di una buona pasqua quindi non lo faccio troppo largo poi lo faccio con un con una app che mi filma dal cellulare quindi vendrà di bassissima risoluzione ma mi raccomando allora cara amiche ed amici grazie di seguirmi buona vigilia di pasqua buona pasqua domani primo di aprile e buona pasquetta come si celebra a roma il 2 di aprile cioè lunedì quindi di nuovo vi auguro buona vigilia di pasqua oggi buona pasqua domani e buona pasquetta dopodomani pace amore abbondanza fratellanza voi i vostri cari i vostri familiari e al più presto ieri anno vero i miei video abituali anche se mi prenderò un periodo di riposo perché sto leggendo molto e ho anche molte cose da fare non sempre purtroppo posso filmarmi come vedrete ho tanti libri di cui vi voglio parlare e ho tanti libri che sto leggendo attualmente quindi grazie di seguirmi buona pasqua di nuovo mi raccomando guardate tutti i miei video commentate di per farmi sapere cosa ne pensate e condivideteli perché anche i vostri amici parenti e familiari possano dirmi cosa ne pensano dei miei video e possano a loro volta condividerli allora buona pasqua di nuovo buona vigilia di pasqua e buona pasquetta dopodomani buona pasqua domani mangiatevi un uovo di cioccolato estate bene che dio vi benedica che gesù stia con tutti voi che l'anima delle feste vi spiri ciao